Vladimir Putin ha detto di essere stato un ingenuo a non capire in tempo che obiettivo dell'Occidente era di approfittare di una disintegrazione anche della Russia dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ma ora sicura di non voler inseguire alcuna rivalsa e nega ogni intenzione di attaccare paesi della Nato definendo fesseria gli allarmi di questo tipo lanciati dal presidente americano Joe Biden. Nel giorno in cui il partito, Russia Unita, da lui fondato, gli ha dato un appoggio unanime per la sua ricandidatura da indipendente alle elezioni del prossimo marzo, il capo del Cremlino ha ribadito la sfida ai paesi occidentali chiamando a raccolta tutte le forze patriottiche, ma allo stesso tempo ha lanciato una sorta di appello alla collaborazione dicendo che Mosca vuole sviluppare le relazioni con i paesi dell'alleanza atlantica. Di sicuro non nutre alcuna intenzione minacciosa verso di loro, ha insistito Putin, respingendo le accuse di Biden che nel tentativo di convincere il congresso ad approvare i nuovi finanziamenti per Kiev, ha affermato che se non sarà sconfitta in Ucraina Mosca poi attaccherà il territorio della Nato. La Russia non ha alcun interesse a combattere la Nato, né geopolitico, né economico, né militare, ha aggiunto Putin in un'intervista televisiva ritenendo che presto o tardi l'Occidente dovrà trovare un terreno comune con Mosca.